Amici dello sportello del cittadino, il nostro spazio televisivo è uno spazio di denuncia ma anche di proposta. In questo caso proposta e denuncia vanno a braccetto, vanno insieme. Andiamo in Medias Res, ci troviamo a Taranto, nelle vicinanze del Ponte di Pietra, alle spalle del ristorante Il Gambero, di quello che era Il Gambero, nella zona in cui avvengono i lavori sulle barche, barche rigorosamente in legno e l'opera, l'attività degli antichi maestri d'ascia. Una tradizione, quella appunto di realizzare le varie barche in legno o, dicevo, di ripararle. Un'attività che fa parte del patrimonio storico della città di Taranto e purtroppo però è un'attività che negli anni, nei decenni, va estinguendosi, nel senso che i vecchi, gli antichi maestri, molti sono deceduti, molti per limiti di età hanno lasciato e quindi ci sono però ancora dei volenterosi, dei ragazzi, dei giovani che hanno imparato il mestiere, come si suol dire, andando a bottega. E però ovviamente queste attività bellissime, preziose, che rafforzano e consolidano la tradizione marinaresca di Taranto, queste attività andrebbero incentivate. Parliamo di artigianato, parliamo di economia, parliamo di attività imprenditoriali sane che si rifanno a quella che è l'origine, la natura di Taranto, il mare. Vedete, l'appello agli enti locali, alle organizzazioni di categoria, a far sì che questi operatori del settore, che vanno, ripeto, estinguendosi, ricevano aiuti per far sì che le loro attività possano davvero prendere ossigeno, prendere fiato. In una città uccisa dall'Ilva, queste sono le valvole di sfogo, queste sono le occasioni. Parliamo, vedete, la bellezza di queste opere, frutto dell'ingegno, frutto della perizia degli operatori del settore. Un'arte antica, un'arte che in altre città d'Italia viene valorizzata, ma qui viene abbandonata, viene negletta, sembra quasi un peso. E spesso anche amministrativamente si boicottano, amministrativamente in senso lato, certe attività. Beh, io dico che questo è il futuro di Taranto. Pensate quanti giovani, quanti ragazzi, soprattutto della città vecchia, che non solo potrebbero imparare questo mestiere, imparare questo mestiere, crearsi un lavoro, crearsi un'attività, portare il pane a casa ed evitare che si possano prendere brutte vie, che si prenda la via della delinquenza, della devianza. Però le istituzioni devono fare la loro parte e finora non l'hanno fatta affatto. Vedete, è un patrimonio meraviglioso. Io mi innamoro, sono innamorato di questa città, del mare, del cuore della città vecchia. Però questa gente è abbandonata a se stessa e ci si ricorda di loro solo nelle campagne elettorali, per parlare del mare, del turismo, della risorsa mare. Ma quale risorsa mare se voi state facendo morire queste attività? Beh, è uno sfogo. Ho voluto farvi vedere un mondo bello, un mondo sano. Quello che è il mio mondo, il nostro mondo, il mondo del mare, non dell'ilva che uccide.